Tutto pronto al polisportivo di Civitanova per l'entrata in campo delle squadre tra Alma Juventus Fano in maglia granata e Civitanovese in maglia bianca padrona di casa. Favo innesca molto bene Gucci, la palla buona per Gucci, Gucci era solo e poi serve Civilla, 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 il tiro, il gol Andrea! Borrea, Sivilla, Palabola arcuata va giù, intanto dovrebbe essere il calcio di rigore, parte Davide, il tiro di Borrelli, la parata del portiere e poi Gucci, intanto c'è la palla che resta lì, attenzione, Gucci torta, incredibile, incredibile occasione, c'è Degano, la deviazione. Ancora Lunardini, tocco verso Sivilla, a Marconi in area di rigore, Marconi palla sul destro, quindi Favo non agganza ma la palla si insacca in rete, scende sulla destra, Marconi mette nel mezzo, Cossu di testa, Gucci, il fallo di Nicola Gucci che deve fare attenzione, attenzione, attenzione al cartellino rosso però, il cartellino rosso al numero 3, C'è Degano intanto che penetra centralmente, Degano, Degano, il tiro, il gol, il gol di Degano per la Civitanovese, azione personale di Degano che mette in rete al minuto 39. 39, ecco il fisco finale, l'Alma Juventus Fano batte al termine di 95 minuti, la Civitanovese 2 a 1.